canto trentesimo se contento di venirci gli diceva fermo in cassa con la coda della gente per salire sulla giostra e le spalle gli teneva per non farla allontanare mentre attorno le attrazioni tutti i suoni della fiera non capisco la tua scelta gli chiedeva a mezza voce il volere roba ferma mentre altro da provare guarda invece il tagadà o il vascello della morte quelle sono cose vere non la smorfia dei cavalli non la musica da donna ma il brivido del vuoto indicava all'orizzonte dimostrava al thunderbird insistendo che da uomo certe cose sono meglio non la giostra da donnette e chiedeva vuoi che andiamo il bambino non diceva ma scoteva un po la testa ricordava l'anno addietro perché c'era già salito e quel vuoto nella pancia quella forza che ti svuota mentre tutto attorno cambia e non sai dove aggrappare mentre il vuoto va aumentando e continuava all'oscillare mentre l'aria va mancando iniziava a vomitare e suo padre che gridava lo portava ai gabinetti per lavare la vergogna rimpiangendo un figlio uomo